Musica Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho la piacere di ospitare questa sera il pluricampione del mondo di sciolpinismo, Michele Boscacci. Michele, buonasera. Buonasera. È un grande piacere, è un grande onore. Partiamo subito dal fatto che la tua specialità, lo sciolpinismo, per te è nel DNA. Sì, per me lo sciolpinismo è una passione che ho fin da piccolo perché c'era mio papà che faceva le gare, le prime gare di Coppa del Mondo, i primi campionati del mondo. Io mi sono appassionato a questa disciplina grazie a lui perché lo vedevo come il mio idolo, diciamo, ma soprattutto anche grazie al mio nonno che mi accompagnava e mi portava a vedere le gare dove correva il papà. Perché logicamente anche mio papà non aveva tempo da dedicarmi sugli sci. Infatti la figura del nonno è stata molto importante perché è stato lui che mi ha fatto conoscere e mi ha fatto vivere questa disciplina. Boscacci e Murada, due cognomi che ai nostri tempi, veramente ai miei tempi, certo ci evocavano lo sciolpinismo, così come Chico Pedrini, piuttosto che Adriano Greco e Fabio Meraldi. Che emozioni vivevi quando andavi sulle Alpi a tifarlo? Beh, sicuramente tutti questi atleti valtellinesi dell'Alta Valle e poi di Sondrio e Bosaggia sono stati fondamentali perché li vedevo, io avevo 10-12 anni e mi piaceva andare a vedere le loro gare, mi piaceva mettermi un po' nei punti un po' più panoramici, un po' più belli, come possiamo pensare alla piramenta in Francia, queste gare classiche, il trofeo Mezzalama. Mi ha sempre affascionato questo mondo e vedere questa rivalità, che era una rivalità praticamente in casa, mi emozionava, mi cimentavo un po' e guardavo il papà. E anche io nel mio piccolo cercavo di allenarmi, ma logicamente ero ancora molto piccolo e anche dei miei coetanei c'era veramente pochissima gente che praticava lo sciolpinismo. Quindi mi affidavo al nonno che mi portava nei weekend oppure magari si prendeva un giorno di ferie per portarmi a fare qualche gita lì dalle parti di Al Bosaggia oppure in Val Malenco oppure anche in Alta Valle. Quindi subito la montagna nelle tue corne oppure praticavi qualche altra disciplina? Ma all'inizio come un po' ogni ragazzino ho iniziato con il calcio, però vedevo che non mi piaceva, era quasi più una forzatura per cercare di stare con i miei compagni di scuola all'elementari. E poi piano piano un po' mi sono distaccato e sì effettivamente non avevo questa gran vita sociale perché non c'erano dei ragazzi e quelli che c'erano erano magari molto più grandi di me, però mi piaceva l'ambiente, mi piaceva il mondo e mi piaceva un po' tutto l'insieme e non facevo caso a tutto il resto. Tuo padre Graziano ti ha messo sugli sci quindi da piccolino? Che età avevi? Ma sugli sci ho iniziato prima di tutto un po' sulle piste da sci per imparare a padroneggiare questi attrezzi perché quando sei piccolo non puoi mettere un bambino direttamente con le pelli e farlo risalire, anche perché è abbastanza traumatica come esperienza, credo. Sì, anche mia mamma mi ha portato quando ero veramente piccolo con il maestro di sci per iniziare un po' le fasi di equilibrio. Quindi Michele, scusa, sci di fondo? No, sci alpino sulle piste di discesa, però anche lì era un mondo che non è che mi piaceva ma non mi affascinava così tanto come lo sci alpinismo e come vedere quello che faceva mio papà. Sappiamo invece adesso che nello sci alpinismo moderno chi è bravo in discesa fa comunque la differenza. Molti ex asciatori di sci alpino si buttano un po' nel mondo dello sci alpinismo e con successo, anche se a pensarci non è una cosa così automatica. Sì, c'è da dire che la discesa è una componente molto fondamentale per la nostra disciplina, perché arrivi in cima a una salita con la stanchezza nei muscoli e la fatica nel corpo. E quindi poi devi affrontare una discesa e non si fa su neve battuta, ci sono magari su una discesa diversi tipi di neve e quello che conta è proprio saper interpretare la neve. E non si guarda tanto la tecnica o lo stile, bisogna perdere quota più velocemente possibile per raggiungere il fondo valle generalmente. Poi se questo lo si abbina preservando la gamba e il muscolo, quindi adottando una tecnica un po' fatta nostra, propria, non prettamente dello sci di discesa, si arriva un po' più riposati per magari affrontare la salita successiva e quindi si risparmiano energie. Ecco, è quella un po' la differenza. In percentuale su una gara, una del circuito di Grand Course, quanto bisogna essere bravi a salire e quanto bisogna essere bravi i discesisti? Beh, diciamo che sulle gare specialmente della Grand Course si vanno ad affrontare discese lunghe, anche che superano i 1500 metri di dislivello negativo. Quindi è anche uno sforzo piuttosto intenso e prolungato nel tempo perché si fanno delle discese che passano i 7, 8, 10 minuti e sono 7, 8, 10 minuti nei quali si sottopongono le gambe a degli sforzi allucinanti e non dobbiamo dimenticare che prima quei 1500 metri di dislivello li abbiamo percorsi in salita. Quindi credo che non c'è una percentuale stabilita, ma bisogna essere completi sia la salita che la discesa. Sicuramente se arriviamo in salita davanti a tutti, però in discesa abbiamo delle grosse lacune, sicuramente verranno a prenderci quelli dietro. Ti è mai capitato di perdere una gara importante per la discesa, magari l'ultimo tratto di discesa, sapendo magari, presumo che dietro ci fosse un Roberto Antonioli, che sappiamo benissimo quale mago delle discese? Sì, mi è già capitato diverse volte di perdere delle gare oppure di fare molta fatica per poi recuperare, perché arrivavo in salita con un po' di vantaggio e poi in discesa venivo recuperato. Infatti il mio punto forte è la salita, non la discesa, ma tutto sommato quando sto bene riesco a cavarmela bene anche in discesa, quindi è un po' tutto l'insieme che ti fa vincere oppure perdere la gara. Un grande campione che non ha, ma per niente le discese, è la catalana, Kylian Gione Borgada. Ha migliorato negli ultimi anni, Kylian? Sì, credo che nel circuito di Coppa del Mondo ci sono alcuni nomi che si distinguono, che possono essere Roberto Antonioli, Matteo Idallin, sempre del team Italia, oppure il francese William Bombardion, che sono proprio dei discesisti, pazzi prima di tutto, che hanno grandissima padronanza degli sci e che la rischiano. Loro magari si distinguono un pochettino dalla massa avendo uno step superiore, però poi c'è da dire che tutti gli altri lì dietro non è che c'è una notevole differenza come tra un atleta rispetto a un altro, si è tutti a un gran livello, ci sono quei 3 o 4 che però fanno una differenza in più. Bisogna essere dei bravi sciatori d'alpinismo, quindi bisogna fare bene la salita, bene la discesa, ma bisogna essere anche bravissimi ai cambi. Sì, anche il cambio è una componente cruciale, soprattutto in gare lunghe, nelle quali ci sono diversi cambi d'assetto, che sembra perdere qualche secondo a un cambio, moltiplicato per 10 cambi si arrivano anche a raggiungere i minuti, quindi bisogna essere più che altro lucidi, non lasciarsi prendere dalla fatica e controllare quello che si sta facendo per non sbagliare. E soprattutto se si vede che si ha qualche piccola difficoltà non lasciarsi prendere dal panico, perché il panico poi ti fa fare errori che lì sì che ci perdi le ore. Da manuale come deve avvenire un cambio perfetto? Ti faccio questa domanda e magari ti chiedo anche di mimarla se vuoi. Uno dei recenti ospiti che ho avuto invito da atleta è stato Gregorio Paltrinieri, al quale ho chiesto di mimarci lo stile libero perfetto e ce l'ha fatto. Quindi Michele Boscacci, chi meglio di te potrebbe dirci, svelarci i segreti dei cambi materiali? Io penso che ogni atleta cerca di affinare la sua tecnica e ha il suo ordine di movimenti da fare per effettuare un cambio d'assetto dalla salita alla discesa e dalla discesa alla salita. Ognuno di noi automatizza questo procedimento che alla fine gli viene naturale e non pensa neanche a quello che sta facendo. Quindi io personalmente quando arrivo in cima a una salita butto i bastoni a terra, chiudo gli scarponi, alzo gli sportellini degli attacchi, tolgo le pelli e le piego, butto dentro le pelli in pancia, prendo i bastoni e parto. Pelli in pancia vuol dire aprite la zip della tutina? Apriamo la zip, infiliamo le pelli nell'apposita tasca che si forma tra il corpo e la tuta e poi richiudiamo la zip perché non possiamo partire in uscita dal cambio d'assetto con le pelli di foca in vista oppure che sporgono dalla tuta. Questo fa parte del regolamento che è molto severo? Ci ricorda le altre regole da rispettare? Un'altra che avevo citato prima è buttare i bastoni a terra per questioni di sicurezza, soprattutto quando magari in gare con livelli più o meno simili, che si può dire in Coppa del Mondo, si arrivano tante persone in una piazzola e bastoni che girano non ce ne devono essere, ognuno appoggia i suoi bastoni a terra e riparte e li prende in mano. E poi bisogna uscire dalla piazzola quando il cambio d'assetto è completamente terminato e poi si affronta la discesa. Tu mi dicevi chiudo gli scarponi per primo perché ovviamente dopo il cambio c'è la discesa e vanno ovviamente chiusi. Se invece dopo il cambio c'è un tratto di gradini e di scalini e stiamo parlando delle vertical? Si mettono gli sci nello zaino, prima si appoggiano sempre i bastoni a terra, si mettono gli sci nello zaino, si riprendono i bastoni e si parte per il tratto a piedi. Affrontiamo, Michele, brevemente il discorso dei materiali superleggeri, sempre più leggeri, ma la federazione ha posto anche un limite. Sì, i materiali sono, se possiamo chiamarli, quasi studiati come le macchine di Formula 1 perché ad esempio gli scarponi sono interamente in carbonio che ti consentono di avere una grossa mobilità per la fase di salita e quindi una comodità anche al piede, ma in fase di discesa si chiudono e ti bloccano come uno scarpone da pista. Logicamente non è la stessa sensazione perché uno scarpone da pista, non so adesso, non sono preparato, ma peserà due chili, il mio scarpone personalmente, una scarpa pesa 550 grammi, quindi non abbiamo le stesse sensazioni ai piedi. E così anche lo sci, studiati con altissime tecnologie, molto leggeri, però devono essere anche molto resistenti. Poi la sciata, logicamente, non ci si potrà godere una fantastica sciata come scendendo con degli sci da 10 centimetri sotto il piede, però sono un giusto compromesso per affrontare le salite in totale leggerezza e anche affrontare le discese in totale sicurezza. Quali sono i limiti di peso sia dello sci che dello scarpone? Lo sci con l'attacco è un chilo e mezzo al paio, 750 grammi ad asta, invece lo scarpone è 500 grammi per ogni scarpa, un chilo al paio. Certo. Mi ricordo qualche campione qualche anno fa che addirittura era arrivato a fare dei buchi con il trapano nello scarpone pur di alleggerirlo maggiormente. Si fa ancora? Sì, questo l'avevo vissuto anch'io quando ero ancora nelle categorie giovanili che era consentito a modificare il materiale in casa, diciamo, solo che poi capitava spesso che tanti atleti dovevano fermarsi e magari arrivano al traguardo con metà scarpone oppure con gli sci spezzati e quindi la federazione ha imposto un regolamento che lo scarpone oppure lo sci oppure l'attacco come esce dalla casa madre non può essere assolutamente modificato. E questo è anche un bene soprattutto un po' per anche il pubblico perché non vede cose assurde come uno scarpone con i buchi dove si vede all'interno il piede. E questo è stato anche un passo avanti della nostra federazione che ha messo questi paletti e questi vincoli. E' anche una questione di marketing. Senza tralasciare il fatto che voi vi gettate giù dalle montagne in questi canalini assurdi con un chilo e mezzo sotto i piedi, ma neanche. Quindi veramente come fate a sciare su due sci così leggeri? Ma per me è una cosa quasi naturale. Ti dico la verità, se vuoi ridere, io se mi metto in paio di scarpone in paio di sci da pista ai piedi, all'inizio faccio, non dico che faccio fatica, però tribulo perché non sono abituato. E' solo una questione di feeling con i propri materiali e poi tutto risulta molto facile. Delle due coppie del mondo assolute che tieni a casa dove, Michele? Dove le tieni? Le mie coppie del mondo sono nel mio appartamento, sono lì in bella vista in cucina. In cucina, ok. Quale delle due è stata la più sudata, la più sofferta e forse quella con maggiore valore? Ma sicuramente, forse anche per un motivo di età, è l'ultima, perché è quella più vicina, è quella che ricordo meglio. Anche perché c'è stata una grande bagarre con Robert Antonioli, ci siamo rimasti a giocarci fino alla fine, fino all'ultima gara, separati da pochissimi punti. Questa, secondo me, è la mia coppa del mondo che ha il valore più grosso ed è quella che è stata la più bella per me. Forse anche perché è stata quella più individuale, nel senso, se non ricordo male, durante la Coppa del Mondo del 2016, quella che poi tu vincesse a fine stagione, veniva contemplato anche il punteggio delle gare non individuali, ma gare della Gran Corsa, quindi gare anche a squadre. Quindi hai ottenuto dei punteggi anche grazie ai tuoi compagni dell'occasione? Sì, sì, esattamente, anche perché l'ultima Coppa del Mondo è stata un susseguirsi di gare o il circuito con solamente gare individuali, che erano le sprint, le vertical e le gare individuali salite e discesa. Mentre la Coppa del Mondo 2016 comprendeva queste tre discipline, più la disciplina, chiamiamola Gran Corsa oppure Long Distance, che comprendeva le gare tipo Pierramenta, Mezzalama, Adamello. Sicuramente in gare di quel genere, correre in squadra è un valore aggiunto perché si va in alta montagna, sono percorsi molto lunghe, gare molto lunghe, anche di parecchie ore, però c'è anche da dire che correndo a squadre il livello atletico cala leggermente, perché dobbiamo pensare che quando corro sono solo io contro tutti, quando si corre in team sono il mio team contro altri team. E quindi sì, la mia Coppa del Mondo che ha anche più livello è l'ultima, credo. Michele, tu hai accennato alla Mezzalama, al Pierramenta, Tour de Routor e insomma gare che sono il patrimonio della vostra specialità. Le vinte tutte, se non sbaglio, anche queste? Sì, ho vinto il Mezzalama per due volte, la Patrouille des Glaciers, che è un'altra gara classica in Svizzera per due volte, e poi il Tour de Routor per due volte. La Pierramenta l'ho vinta l'anno scorso con Roberto Antonioli per la prima volta ed era una gara che avevo molto a cuore. Diciamo che queste sì, sono le gare classiche dello scialpinismo e le gare più storiche, le gare che andavo a vedere quando corri a mio papà. Mi manca l'Adamello, che quello è un mio obiettivo, che vorrei riuscire a centrare e poi credo di avere un po' completato il cerchio vincendo anche il Sella Ronda, che è sempre una gara classica, che si corre però questa in pista, però è una gara molto sentita in Italia. Sì, sono gare che sono state le prime gare, quelle più riconosciute, e quelle con cui tutti riconoscono. Gare in cui vi avvicinate al grande pubblico, o meglio, il grande pubblico si avvicina a voi. In cima a queste montagne c'è sempre una tifo da stadio, veramente una grande emozione, presumo, per voi passarci in mezzo. Si va bene la concentrazione della gara, ma credo che non possiate fare a meno di sentire il calore di tutte queste persone. Beh, sì, queste gare sono soprattutto gare nelle quali tutti quanti gli amatori, dal primo all'ultimo, possono almeno provare a partecipare. Si deve avere un determinato curriculum, perché sono gare piuttosto dure, però anche gli amatori possono confrontarsi con i professionisti. Poi, sì, quando si va, per citarne una, alla Pierramenta in Francia, sono quattro giorni, quattro tappe, quattro tappe che non senti quasi neanche la voce del tuo compagno, perché sei in mezzo a due ali di folla. Certo. Come fate a recuperare tra una tappa e l'altra, tra una giornata e l'altra, quando i metri di dislivello sono tantissimi, le ore in pista sono altrettanto, insomma, la stanchezza di giorno in giorno si accumula? Sì, alla Pierramenta oppure il Tour de Ruiter, perché sono gare a tappe, sono molto dure, perché si pensa a quattro tappe e dieci mila metri di dislivello in totale su quattro giorni. Ci si sveglia al mattino, si fa la gara, appena finita la gara, interviste, poi subito in stanza, mangiare, riposare, mangiare, riposare, per il giorno dopo pronti e così via. Quelli sono quattro giorni, io l'ho fatta per diversi anni questa gara, e ogni volta arrivo il quarto giorno, che mi sembra che è un mese, che mi sembra che è passato un mese, invece sono passati quattro giorni, però per dire che il fisico arriva proprio portato al limite. Michele, avrai una bacheca a casa enorme, dove sicuramente campeggiano le due coppe di cristallo, ma c'è stato un premio davvero speciale per te, curioso, simpatico e davvero speciale, ce lo ricordi? Sì, oltre ai trofei che vinco nelle gare, nel 2016, in occasione dei festeggiamenti per la mia prima Coppa del Mondo, in primavera, alla mia festa, mi hanno regalato una vitellina di razza brunalpina, perché tutti sanno in Albosaggia quanto ho questa passione per gli animali, mi piace l'allevamento, e in occasione i ragazzi del mio fan club, e con i ragazzi della Polisportiva Albosaggia mi hanno fatto questo fantastico regalo, e questa vitellina ormai è diventata una mucca, e la tengo nella mia stalla, ho una decina di animali, che mi occupano gran tempo in estate, però è una passione che ho fin da piccolo, e finché riesco cerco di fare il possibile per poterla coltivare, aiutato naturalmente da mio nonno, perché come ben sapete sono spesso via per gare, allenamenti, ed è dura poter gestire tutto da solo. Volevo chiederti quale fosse il tuo hobby e che cosa fai nel tempo libero, ma presumo che questa sia la risposta. Sì, il mio tempo libero lo impiego tutto lì, quando ho finito di fare allenamento mi dedico ai miei animali, oppure alla campagna in estate. Ti ricordi i nomi delle dieci mucche? Sì, poi quella che mi hanno regalato si chiama Vera, poi una piuma, una stella, poi un po' di vitellini, ho dato nomi un po' imbarazzanti adesso da elencare. Non si possono dire in tv? Sì, si possono dire, uno si chiama Tyson, l'altro Falco, poi uno l'ho chiamato Freezer perché il suo destino era già segnato, poveretto, e quindi c'è anche questo un po' nella mia vita. Certo, e mi permetto anche un po' di, una parentesi in rosa, insomma c'è anche tempo per coltivare l'amore tra una discesa, una salita, un allenamento e una mucca. Sì, c'è anche la mia ragazza che fa parte della squadra nazionale, che è Alba De Silvestro, non abitiamo proprio vicini perché lei abita in Veneto nel Comelico, però visto che siamo spesso con la squadra nazionale oppure con il centro sportivo esercito, ci vediamo molto, poi anche lei viene spesso a casa mia e ci alleniamo assieme. Logicamente non facciamo proprio tutti gli allenamenti assieme perché lei va al suo ritmo, io al mio, però è molto bello poter condividere anche questi momenti con una persona del genere. Michele, siamo in una conclusione, dove vorrai arrivare? Insomma hai vinto tutto, che cosa ti manca? Beh, diciamo che proprio non ho vinto tutto perché mi manca ad esempio il titolo di campione del mondo nella gara singola, mi piacerebbe poterlo centrare, è uno dei miei obiettivi ed è quello che decreta l'atleta più forte dell'anno. È molto complicato, io cercherò di mettercela tutta e di fare il possibile per provarci anche questa stagione. Robert Antonioli permettendo? Eh sì, sicuramente, oltre a Robert ci sono anche tanti altri atleti, ma uno di quelli che temo maggiormente è lui. Eravamo in conclusione, ma parlando di Robert non posso non chiederti, che feeling c'è tra voi due? Insomma siete rivali, siete a Cerrimi rivali, ma in verità siete dei grandi amici? Beh sì, con Robert è da quando siamo junior che siamo in giro con la squadra nazionale, allenamenti, gare, ritiri nel centro sportivo esercito. C'è un rapporto oltre all'amicizia, oltre allo sport, non so, è come se fosse un fratello perché abbiamo fatto anche tante gare assieme, tante gare a squadra assieme. Poi certo è strano perché siamo sempre in stanza assieme, ma quando dobbiamo andare in partenza usciamo tutte e due dalla porta e poi da lì fino all'altra guarda siamo rivali. Però è una rivalità sana e poi finita la gara amici come prima. Beh questo è davvero bello. Michele Boscacci, grazie, bocca al lupo e complimenti di nuovo. Grazie a voi. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo, buona serata.